No, non mi sento nessuno Andiamo a Roma Allora, non ti fa scappare meglio Lui è sempre così serio come sembra, ragazzi Ma deve essere così qualche pezzo Alla te la diretta di io, sì C'è davvero una coppia vera E si vede che mi amate Non lo so A Positano A Positano non ci sono due mesi di ripresentazione Ciao Peppe Sì E' bellissimo Stupendo Ma sei fortunatissimo Grazie E come si potrebbe essere con me? Ciao Alla Svizzano Per me Pietro e Top Grazie Sara, sei davvero buona Ciao Ciao Un mese di voi siete una musica Ma su mese è volato Sì 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 L'altro intorno ci siamo messi a casa di vedere la cifra E noi Noi ci manciniamo ogni volta Ci manciniamo ogni volta Tra scelte e serbio Mamma mia Che cosa è stato Che cosa è stato Che cosa è stato Che cosa è stato Sì 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 Ciao Anna Sì Ma ho i miei dubbi Rosa vogliamo Iscrivervi alle vostre conversazioni iniziali Oh Vuolete gli scurri Ah già Abbiamo fatto la promessa Sì Delle nostre conversazioni iniziali su Facebook Sì Sì Valeria un po' di pazienza Dammela Ma in Sicilia dove c'è stato Sì Il tatuaggio sta C'è la foto postata sul porfino di Pietro Sul porfino di Ribella Allora Attento anche a Pietro perché Rosa è bella e più grande Ma dici che non è così Ti adoro Rosa Per favore Rosa che saluti per favore Madonna non riesco a leggere tutto Cerco di imitarvi Credo di imitarvi l'amore che si chiama Pietro Rosa E' già innamorata Avete Insaurato un rapporto Meraviglioso Completo Di pazzia Simpatia E' serietà in tutta E' vero Quello che siamo noi Abbiamo fatto Spazi seri E Non esistere Siete mai venuti? Cosa è successo? Qua Siamo volessi fare i coprenti Siete troppo brutti Grazie Grazie Avete intenzione di sposarvi? Mamma mia Sì 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 Mi saluto di usare la nostra sicura Adesso sei il signore Rosa sei una donna con la tua maiuscola Bella Sì Grazie Un po' di rapido E' Sono onorata di Meritare con me La vostra stima Che non può passare a noi Rosa salutatevi Ah Vuoi sapere come ti fa uno smokey ice? Sabato Già ragazzi Sabato Ma che cos'è? Ma che cos'è povero? Che cos'è uno smokey ice? Un trucco Un trucco Un trucco Un trucco Agli occhi Che Ho fatto con un ombretto Su No Tutti i miei segui Tu l'hai scelta Pietro? Ti ha mai rifacciato qualcosa? No Mai No 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 L'unica coppia di uomini e donne Naturali Uomini e soprattutto vera Un saluto Bene Se siete troppo belli Vedete bellissime Se è bella Gnaa 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 Allora Rosa l'oltre esterna dopo il bacio Come ci sei sentita? L'oltre esterna dopo il bacio Questa non c'è stato il bacio Ah benissimo Ti amo Bello innamorati Cosa ho di più? Vi meritate Ci vediamo Saluti alla Puglia a tutti qui mi amano Saluti alla Puglia Grazie Martina È bellissima Grazie Martina Sulla pagina Sta la foto sul proprietario di Instagram Allora Ma Mi piace Mi hai visto Non litigate mai Voi Magari Ma quando mai Vediamo un giorno sì Un giorno sì Un giorno sì D'ora Quando hai capito che il pedale era quello giusto Bah Credo d'altro momento è arrivato in Germania un po' lontano in Germania però in Germania ritorno al papà figo nell'ultima stare non c'è stato ma come si fosse stato no, lui era tristissimo dopo il set ma vado via sbommando si posso anche interrompere? ma devo spiegare se vuoi spiegare ah si va in pausa? grazie, grazie, ho donato il basso il piso messaggio, what's up?